Il cross di Carbonaro, attenzione, recuperata la palla incredibilmente proprio sul fondo, allontanata la palla da Caridi, non c'è nessuno, ancora appoggia bene Matera per il numero 18, Tovalieri, il talentuoso giocatore della Versa, a due davanti a lui, cerca di superarli, lo mette in ferro laterale, attenzione, bisogna stare svegli, la Versa Normanna è tutto nella nostra area di rigore, lato corto dell'aria, attenzione, va a respingere, attenzione, il rimpallo favorisce Tovalieri, cross in area di rigore, attenzione, e il gol, 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 gol del numero 4, Arini, Arini ha preso questo cross e l'allenatore della Versa Normanna scatena tutta la sua tensione, su questo gol, su questo perfetto cross di Tovalieri, giocatore, attenzione, non buttate bottiglie in campo ragazzi, arrivano bottiglie in campo ma la Versa Normanna era tutto nell'area di rigore della Vigor Lamezia, il gol era nell'area diciamo, sembrava riuscirci per arrivare a questi tre punti, domenica ci aspetta una trasferta difficilissima da Versa, Arini ha stampato di testa sulla sua testa il gol dell'1-1, e ha portato in parità a questa partita difficilissima, l'arbitro ferma di nuovo su questo Tovalieri, davvero dalla destra, dal lato corto dell'aria, dall'altra parte, ha fatto partire un cross dove si è alzato Arini e ha staccato di testa dove imparabilmente Basso sulla destra di Forte ha messo la palla nel sacco, 1-1